come tendo a dire sempre nei miei video prima di montare un pezzo testatelo perché testandolo potete capire se il pezzo è in ordine o non lo è quindi io adesso passerò alla parte del test collegati i flat faremo il test delle lcd per vedere se funzionante e il test dice che il nostro lcd è funzionante tra l'altro questo iphone in fase di ripristino quindi lo dovrà spegnere immediatamente però intanto test delle lcd funziona lcd funzionante fatelo sempre prima di montare un pezzo